Ok, bello a tutti ragazzi, oggi siamo qui per giocare a Counter Strike Global Offensive Perché non c'avevo niente da fare Allora, visto che c'avevo 20 euro sulla più steppi, ho detto prendiamo un gioco al cazzo E ho preso questo, che forse è il più decente che c'è E' molto simile a Cobb e a Butterfield Solo che in maniera molto più semplice La grafica è meno sviluppata e cazzate del genere Ed è un po' strano, molto strano Vabbè, non puoi mettere gli accessori alle armi, ti vengono messi automaticamente Ci sono varie modità di giochi C'è Deathmatch, che sarebbe il classico Deathmatch a squadra Corsa alle armi Cosa sarebbe il gioco delle armi Cioè ogni uccisione cambia l'arma Che è l'ultima arma, che uccide prima con l'ultima arma Che sarebbe la 26esima, vince Poi c'è Demolizioni che non l'ho mai provato Basta, come demolizioni Classica leggera e classica competitiva Che non l'ho mai provato anche questa Quindi Adesso andiamo a Deathmatch Anzi, sì sì, a Deathmatch Mappe classiche E partiamo per questo primo episodio di Counter Strike Global Offensive Anche Battlefield 3 Successivamente metterò un episodio anche su quello Dovevo anche, ci devo anche precisare che Se mi raggerà a morte Perché in questo momento in cui sto giocando a Counter Strike Sto caricando il video precedente Cioè Formula 1 Quindi Abbiate pietà della mia connessione E prima a giocare Sto giocando col joystick A differenza da quando c'è scritto il D C'è scritto l'esk Ma è un po' di scritto l'esk Non sto giocando la vestiera Sto giocando il Joypad dell'Xbox Ok, si è connesso Avevo paura di che non si connettesse Poi qui nel Non so perché nel caricamento si blocca Ma non è un Cioè un blocco così a occhio Però Ok Recupero dei dati di Joe Continuo Ok Squadra terroristi e antiterroristi Terroristi devono spiazzare la bomba E gli terroristi devono spiazzare la bomba O no Non lo so Forse mi sono sbagliato Vabbè No, quella è la demolizione Mi sono sbagliato, scusate Quindi Armi casuali attivate E io non voglio l'armi casuali Da decidere armi schiacciare qui E in posibilità è rimasto Ok Allora Scegliamo una bella Io preferisco una M4-1 No, ho sbagliato E ho sbagliato Mannaggia la copata Per giocare col Joystick Non so perché Devo fare questa operazione qui Schiaccio Qui Devo scrivere X E poi posso giocare Ok, adesso posso giocare Rinasci con l'arma bonus Ah, sì Qui ci sono le armi bonus Un secondo come Entra la sensibilità Della Ogni tot Ci sono le armi bonus Se le vuoi usare Muori Ti suicidi E poi le usi Quindi controller Sensibilità Eeeh Ti lo sapevo Arriviamo a 1.50 Ok Perfetto L'M4-4 E' doppia Double kill Attenzione ragazzi Un novellino come me Che non ha mai giocato Fa una doppia Non l'ho mai fatta Sono scarsissimo Non riesco E' difficile Perché qui non si può mirare Oh Attenzione Un'altra kill Oh cazzo Ecco Mi ha ucciso Gatebox Ah sì perché Se non ci sono abbastanza Giocatori Adesso c'è l'Aug Le armi vengono scelte Casualmente all'inizio Poi tu le puoi cambiare Puoi comprare altre armi Però Adesso vengono scelte Casualmente In questa modalità In demolizione Invece Sei totalmente Autonomo Credo Perché se non sbaglio Ho giocato in demolizione Una volta Anche se non mi sto ricordando Quindi naturalmente Se volete continuare Scrivetemelo Cioè se non volete Che io continui Questa serie Scrivetemelo Perché non la continuo Però A me piace Sto gioco Carino Spendendo Che gioco è questo Eh però Sono stupido Anch'io che sono Ehm Wow Madonna Che pro gamer Oddio Oddio Che pro gamer Mamma mia Sono il nuovo leader Sì Sono primo Oddio Sto facendo 8-3 E' una cosa Impensabile Ah no Sono amici Ok Adesso Vedete La P90 Se schiaccio Gio Mi fa rinascere Con questa E ci sono 5 punti bonus In più Io quando uccido Un nemico Mi danno 10 punti bonus Invece Con questa Per esempio Ci danno 15 I punti bonus Sono i punti Tipo Per la partita Ciao Stupido 16 punti Infatti 11 a kill Io ho sbagliato Oddio Direi 10 Cazzo Mi hanno one shotato Compriamo l'arma Allora Compriamo un bel Cugino di fusione La WP Quella faceva prima Eccolo qua No Ok Andiamo con la P2000 Scusa Amico Sono stupido Aaaaa La vaffanculo Autore dei provvimi 25 Managgia La pupazza Ok Mpc Ah ti ho ucciso io Ti ho schigliato No Scusa Scusa Ok compriamo Adesso Non posso più Comprar Ogni volta Che muore Per comprare L'arma Devi Aspettare Il prossimo La prossima morte Cioè C'è un tempo limite Tipo per 10 secondi Puoi Puoi cambiare l'arma Se non ha attaccato Un compagno Scusa Ok Sì 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 Io con la pistolina Di in forza Cazzo C'è troppo Sì 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 Più a beretti Penso Sì 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 Nella squadra avversaria c'è Naruto e Notis che non sono bot e gli altri tutti bot. Però in demolizione non ci sono mai bot, la prossima partita la faremo in demolizione, ragazzi. Ragazzi. Rinasci con l'arma a bonus, voglio provare questo nager perché non l'ho mai trovato. Beh, quello è amico, sì. Vai, vai, andiamo col te in giro. Vai, come ha coltellato. No, io ti ho coltellato. No, no, ma quello è Naruto. Chi era quello, ma? Bot Queen, vaffanculo. God che è unito a noi, apposto. Ok. Armi casuali, giustamente. Nella riva nella. Ehi, kill, così impari Queen a uccidermi. Ho il FAMAS che è bruttissimo in questo gioco appunto qua. Dai, dai, che sono un pro gamer. Che cazzo! Campe. Sono troppo pro gamer, ragazzi, lo so. Guarda, sto facendo 14-9. Vabbè, in demolizione, mo che vado in demolizione non dovete mai fare 14-9. Al massimo dovete fare 9-14. Ma è già un miracolo. Sì. Perché è molto più difficile, dato che non sono quasi nessuno in bordo. Porca troia Eva, non muori, fai immortale. Ti ho scaricato un caricatore di qualsiasi cosa che era... Muori, 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 muori. Ok, adesso continuiamo la... No, la fase di acquisto è terminata. Che cazzo mi spari, coglione! Ah no. Eh, pensavo che eri amico. Amico, pensavo che eri amico. Qua demolizione è una cosa stupenda, può durare fino a 90 minuti un round. Sempre se è di demolizione che sto parlando, perché non lo so. Quando finisce questa partita, chi si è in vantaggio? Non lo so, lo sapete. Chi si è in vantaggio? Non ne ho idea. Rinasce un'arma bonus, non le voglio. Voglio questa qua, più bella. Eeeh, fucile a pompa pro gamer, powerazzo. Super mega power. Sono troppo pro. Sono un power mega, altro che dread e cazzate del genere. Altro che i Fades. Tu ru 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 tu, tu cci. Ti posso uccidere? Voglio vedere se posso uccidere un amico, posso provarci? Attaccato un compagnolo, non è che mi bannano, è meglio... Togli, ti coglione. Per un cazzo. Qua ne sta uno. Eeeh, 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 moto ooooh! Moto ooooh, che doppia. Double kill. Fresh kill. Fresh non vuol dire niente. Fresca. Fresca. No no. Vai, andiamo in giro con la pistolina. Non ne voglio arma bonus Voglio la... Quella Quella ho chillata No bastardo Una vita Perfetto Ma che fucile è? Fucile multicolpo Oh oh Che c'è? Sto facendo 24-14 I'm the best in the... In the sala Se vedete Sopra... Sopra Quello che sta facendo 338 Credo che sia io Perché sono cercato Oh attenzione L'ho visto No bastardo Non è fatto Torre 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 Sì Oh sono un mostro Sono arrivato primo E vince la partita Xenon 96 Arriva primo Quindi vabbè abbiamo vinto noi Hanno vinto gli antiterroristi Attenzione Ok No che ho voto per la map E voglio uscire Mappa Italy No no mappa Italy Mappa Italy Ah questa qua era Italy Quindi questa qua è invitata in Italia Credo Sono un genioso Oh attenzione Scelta casuale Dust2 Ok non mi interessa perché non devo giocare Non devo giocare Devo fare demolizione Devo fare Così bestemmio un po' di più Qua è troppo poco bestemmio Questa situazione Ok Qui si è antiterroristi Sì chi vuole Facciamo Torno al menu principale Perfetto Ok ragazzi Andiamo a giugioca Trova una partita Demolizione Andiamo a giugioca Demolizione Trova subito Puttana del cerdo Unione a una partita Fugno Ok Alla la la Alla la 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 Alla la la Allora ragazzi Vi devo anche dire una cosa A novembre No a settembre credo Uscirà Il secondo amnesia Io Lo prenoterò Tra oggi e domani Per averlo subito E quindi farvelo avere subitissimo Allora Inizio la partita Vediamo Scegliamo un'arma Aspetta Devo scrivere quella cosa Ragazzi A posto Ma ho fatto Demolizione Almeno Che brutta mappa Questa è la mappa Che mi piace di meno di tutti Andiamo sopra L'ho killato No Faffa Ah che pare Devo aspettare Tiene round Le forze Anziterrorismo Hanno vinto Ok No Io schiaccio B E decido l'arma Che voglio Ragazzi Mi si è bagato il gioco Vi si è accorti Non c'è più l'arma Ragazzi Ragazzi Ah ok Adesso c'è Mi stavo Alquanto preoccupando Ehi Ti ho Ucciso Muori 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 Sì Doppia kill Con l'M4A1 Anzi Con l'M4A4 Scusate Ragazzi Ma si va a spettare Oh dì c'è uno a fianco Non me l'ho accorto Dissermiamo 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 Attenzione Ho disermato la bomba Eeeh Vinco Vinci la nostra squadra Per Faffanculo Cosa non si permette Uscite Ok Ok Devo E quindi Avanzo verso una nuova arma Eeeh Ah Granata Flashpink Sì sì Mi serve La buttiamo da sopra 3 2 1 Shit Attenzione L'ho visto L'ho visto Andiamo A posto Ho guadagnato Un'altra arma Nel prossimo turno Ma questa porta Mi può aprire Vabbè Eh dove dovevo andare Scusa No Ci hanno trollato ragazzi Ci hanno stoppato Ci vedete C'è questa porta in faccia Almeno che non devi fare tipo Che ne so Quadrato Ah Quadrato Abbiamo vinto di nuovo Oh che cazzo Però non vale Attenzione Ecco l'arma L'UMP L'UMP 45 Sono riuscito ad ottenere L'UMP L'UMP UMP 5 Ok vediamo un po' Se riusciamo a Oh Cerca Eeeh 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 No è impossibile Ragazzi è impossibile Mi sta raggando a morte Ragazzi No 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 Lo sapevo Era impossibile Ragazzi Era immortale Ma porca puttana Eva Che me ne licche qua È arrivato Menchia me ne licche Ci sono tre avversari Ok devo stare attento A me ne licche Let's go Spaudiamo di tutti Attenzione Wow Che è stato Reed Vaffanculo Attenzione Vediamo se La nostra squadra Ce n'è solo uno Della nostra squadra Bot vini Let's go La nostra camera Perfetto Così voglio dire Questo è ancora con la P90 Attenzione Però stiamo vincendo noi Eh 3 a 1 Che palle però Una persona bomba Quei bastardi Che fanculo Meneliche Vaffanculo Meneliche Ah ok Ho ucciso Un avversario Quindi la Desert Eagle Desert Eagle Vediamo Questa Questa Armanda Cioè esteticamente È sexissima Mi nascondo qua Ecco Mi butto La La bomba No Porca puttana 7-6 Sto facendo Ah che bastardo Meneliche Guardate Ah Fatto bene Ah Dai solo Due bots No solo Boh Mi fa bene Ah nella mia squadra Sono entrati alti Che non sono bot Oh Il bot di Meneliche Che è morto Non ho capito Perché c'è il bot Cioè Questo gioco È sempre più Strano Anche se l'ho pagato 15 euro Ok Terroristi hanno vinto Siamo 3 pari Adesso mi tocca La nuova Il fucile A pompa Credo E non mi piace L'ho già usato Non mi piace Non mi piace Non mi piace Non mi piace Devo nascondermi Oh oh Mori Mori Cazzo Immortale Porca Oh Ci tocca La 5-7 Adesso Mi sa che Prima che arriva L'ultima arma Se ho capito bene Vince Cioè vince la sua squadra Se ho capito bene Forse Però non lo so Perché siete più strani Oh stranamente Non c'è nessuno Lì No Chi è questo bastardo Vaffanculo Me ne dica Questa me la paghi Cara Vai venite di là Venite Sono pronto A ficcarvi Una pallottola In capo Mori Mori Bocchi Del cazzo Mori Oh ma non l'ho ucciso Ma cazzo No Io spero di averlo ucciso Non l'ho ucciso E' impossibile No Vabbè Vabbè Ma diventa il bastardo No Fammi l'ultima Ma Ragazzi Non Cazzo Guardate Non riesco a fare una kill Sì L'ho ucciso No Non mi dica Non l'ho ucciso No Questo è impossibile Questa me la dovete spiegare Questa poi me la dovete spiegare Proprio Riassortire le squadre Sì Quindi sono cambiate Che cosa è successo Oh Sono cambiate le squadre Adesso siamo contro due botte Tutti il resto persone Perfetto Perfetto Ne ho ucciso già uno Perfetto Ne hanno già ucciso Oh Me ne lì Che ha rotto il cazzo Porca Troia Perfetto Il robot red Scarsissimo Dai Nato Di Stima donna Hanno vinto Per me Di sto Minelicchio Del cazzo Ma ne ho ucciso Almeno uno Sì Quindi posso giudicare Il mio secondario Dove stare qua Lì No 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 Porca troia Eva Puttana Zoccola Devo di nuovo Cambiare la sensibilità Me la sono scordato Mi sono Onnimente Ma che ha vinto Loro non ha vinto Che cosa è successo Mi sei buggato Ok Oh Stava facendo un balletto Niente male Dai Dai È da rivedere Questa cosa Un movimento Balletti Guardate Guardate Wow Wow No No Ma dai No È impossibile Non ce la faccio Cioè Non è possibile Porca troia Vaffanculo Sto me ne lì Che ha rotto Il cazzo Ragazzi Me ne lì che ha rotto Il cazzo Ragazzi Ha rotto Il cazzo Me ne lì Cazzi 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 Bossa Cazzi Cazzi Nessuno Stai là Oh 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 Io Non mi arrendo Che ho Cazzo però Che cosa fai? Mi trolli Ma l'ho ucciso Ho killato Vabbè non lo posso prendere esplosivo Che lo guardi Cosa dovrei fare? Ragazzi scusate per ignoranza ma Ah non erano ancora Non erano ancora morti tutti Devo uccidere qualcun altro Penso che erano morti tutti scusate Vaffanculo però Dai Che scrivi yeha tu? Me ne l'icca Yeha di sta minchia me ne l'icca Nooo Porca puttana Che cazzo Ah ragazzi 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 Non è possibile Sono come degli avvoltoi Neanche Non si può entrare da dentro Cioè è impossibile Io qua Eccolo là Mori Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ma vaffanculo Dai, due bot sono rimasti Esce questo qua che non è un bot Nooo Questo camusco Deterticol, attenzione Porca troia, porca troia, porca troia È mortale Cazzo Modo, non ce la faccio più ragazzi, sono troppo noob Come ho fatto prima di fare bene, non lo so Oh, sui tetti si può salire, non lo sapevo Sparalo, cazzo Ah, è stupidissimo Botto di morire perché si stiu No, si muorce non si Bene, stiamo perdendo più Oh, sui tetti Oh, sui tetti Oh, sui tetti Sì, li devo cogliere Alle spalle, alle spalle, alle spalle, alle Sì Nooo Nooo Ma chi mi ha ucciso? De Camus, vaffanculo. Ma perché? Adesso c'ho sto fuggire a pompa del cazzo che fa schifo ai peni ambulanti. Oh, attenzione. Chi sa? Allora, io voglio capire com'è fatto a non morire. Solo quello che voglio capire. Ma porca pagata, sottana. Dei, 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 dei. Dei, 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 dei. Ah, non ho fatto anche una kill con sta merda di arma. Che schifo di arma del pene. Ah, però abbiamo vinto. Non mi ho accorto. Finalmente. Sei fatto bene. Qua devo rimanere. Scusa. Spanculo, è impossibile questo processo di scazzi. Dei Camus mi sta dominando. Che bello. Quale è? Quanto è stupido quello. Sì, abbiamo vinto. Oh, maggior numero di uccisioni. Venire, così a occhio. Ma cos'è MWP? Non lo so. Qualcosa bonus, tipo una granata. Che non so. Ah, no. L'esposivo. E qui vi ho delle squadre nel prossimo round. Ok. Ma guardate. Ma porca è mazzocco. Non si può giocare così. La K47. Ah, abbiamo ricominciato. Con altre armi diverse. Quindi adesso siamo? No, me ne lì che è sempre contro sta. È impossibile. Quello là è troppo forte. Troppo forte. Non ho provato bene. Non ci farò a cazzo, ragazzi. Chi è stato? Di dove è uscito questo? Dal mio buco del culo. No, vabbè ragazzi. Ragazzi, dopo questo round stop perché altrimenti il video dura fino ad una mattina. E non me lo posso permettere. Non vorrei... Lo so, non volevo neanche io stoppare nel mio mezzo di una partita. Però... Non sapevo che durasse così tanto. Non sapevo neanche quanto durava. Allora, proviamo a fare l'ultimo round e poi... Basta! Devo riuscire a non morire in questo round. Vediamo. Ci riuscirò. C'è già la risposta io, no eh. La risposta è no. Vediamo se riesco a fare così. Ehi, ti ho visto. Ah, ci sto controllando. Fatto bene. Sì, abbiamo vinto. No. Sì, abbiamo vinto. Ah, noi adesso siamo i terroristi perché abbiamo andato a scendere. Vabbè, ragazzi, se che vi dico, finiamola. Mi sono gasato. Dai, dai, uscite. Dai. Dai, uscite. ragazzi. Vediamo se le altre zone. Hanno vinto loro, mi dispiace. Non possiamo più vincere. Ragazzi, possiamo... Possiamo pareggiare, ragazzi. Dobbiamo vincere tutte e sei. Cosa vuol dire? Io devo mettere questo. Ok, lo metto. Un punto a bomba. Cazzo. Ma vaffanculo, va. Ma porca puttana, no, no. Ragazzi, non ci credo. Non ci credo. Beh, ragazzi, a questo punto è finita, infatti. Guardate che coincidenza. Non ho capito perché è finita. Però, a questo punto io esco e ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi, commentate. Mettete mi piace. E basta.